Fin dal suo primo insediamento l'amministrazione fanese ha posto sempre come punto fermo l'attenzione sulla mobilità sostenibile che ha visto non solo opere strutturali in alcuni tratti della città ma anche la pianificazione di futuri interventi. Questa mattina durante una conferenza stampa è stato presentato il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che analizza e studia lo spostamento delle persone e delle merci per verificare l'impatto ambientale e l'emissione delle CO2. L'obiettivo di questo progetto è quello di analizzare nell'arco di due, cinque, dieci anni le strategie da intraprendere aumentando così il benessere della città. Quindi che cos'è il PUMS? Noi cerchiamo di mettere tutte le politiche che abbiamo fatto fino ad oggi come per esempio dal 2017 è stato approvato il Piano dei detinerari ciclabili, tutti i lavori che stiamo facendo sulle zone 30. Anche la riorganizzazione della sosta è all'interno di questa strategia generale che quindi ci aiuta a mettere insieme tutti questi tasselli di un puzzle e quindi ci darà un'analisi oggettiva e anche delle proposte con cui l'amministrazione dovrà poi fare delle scelte più consapevoli e più corrette andando nella direzione della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e quindi incentivare l'utilizzo sempre di più dei mezzi sostenibili. Lo studio del PUMS parte oggi, la fase di analisi durerà circa quattro mesi, complessivamente per l'elaborazione di tutto il piano ci vorranno circa dagli otto ai dieci mesi, quindi ci riaggiorneremo più avanti per vedere come si svilupperà la cosa. Ci saranno anche dei momenti partecipati dove appunto si coinvolgeranno gli stakeholders, i cittadini, le associazioni per fare questo percorso insieme.